A distanza di tre settimane siamo tornati in strada Fornace Vecchia, questa carreggiata che come potete vedere alle mie spalle corre parallela all'autostrada A14 e in questo punto sotto un ponte a punto di autostrada si crea un sottopassaggio dove su segnalazione di una nostra telespettatrice avevamo segnalato poche settimane e fa un ingiustificato abbandono di rifiuti. Ora siamo felici che grazie alla nostra segnalazione assieme a quella della telespettatrice che ha denunciato le autorità competenti sollecitando l'azienda di servizi di rimozione rifiuti per ripulire l'area siano spariti tutti gli scarti di lavorazione e rifiuti insacchettati che campeggiavano qui abbandonati da settimane. Il problema però è che rimuovere i rifiuti non rimuove il malcostume e l'inciviltà, basta infatti spostarci di pochi metri e da qualche giorno si trovano materassi abbandonati, altri oggetti e rifiuti di vario genere che identificano come il problema non fosse tanto i ritardi nella rimozione dei rifiuti quanto un'inciviltà e un disprezzo dell'ambiente che sono dunque molto più difficili da debellare.